Buongiorno, a proposito dello stadio, volevo dare il mio contributo anche in Regione. Tante volte non fosse chiaro il progetto stadio, diciamo, clinica, dato che ormai sono già passati un po' di tempo da quando l'abbiamo presentato. Tutti i miei consulenti sono a completa disposizione della Regione per spiegare in maniera dettagliata leggi le gettine perché e per come. Non mi prendete per cattivo, va bene? Perché è come dire, per velocizzare e per rendere tutto più tranquillo. Per permettere, diciamo, un giorno a Putin di poterlo bombardare lo stadio di Terni. Finito. Vabbè, è chiaro quello che io penso di Putin. Arrivederci a tutti.